L'orco con le penne Un re si ammalò. Vennero i medici e gli chiesero Senta, maestà, se vuoi guarire bisogna che lei prenda una penna dell'orco. È un rimedio difficile perché l'orco, tutti i cristiani che vede, se li mangia. Un re lo disse a tutti, ma nessuno ci voleva andare. Lo chiese a un suo sottoposto, molto fedele e coraggioso, e questi disse Andrò. Insegnarono la strada. In cima a un monte ci sono sette buche e in una delle sette ci sta l'orco. L'uomo andò e lo prese il buio per la strada. Si fermò in una locanda e il locandiere nel discorrere Se tu mi portassi una penna anche a me, visto che fan tanto bene... Sì, mi rapporto volentieri, disse l'uomo. E se gli parli all'orco, vedi un po' di domandargli della mia figliuola, che è tanti anni che mi è sparita, e non so più dov'è. Al mattino l'uomo proseguì. Arrivò a un fiume, chiamò il barcaiuolo e si fece passare. Nel tragitto si misero a discorrere. Me la porta una penna anche a me? Chiese il barcaiuolo. So che portano fortuna. Sì, sì, gliela porto. E se poi gli può domandare come mai è tanti anni che sono qui e non riesco a uscire da questa barca? E lo dirò. Sbarcò e continuò la strada. A una fontana si sedette a mangiare un po' di pane. Vennero due signori ben vestiti e si sedettero anche loro lì a discorrere. Perché non ne portereste una anche a noi? Gli chiesero. E perché no? E poi dovreste domandare all'orco la ragione di una cosa. Nel nostro giardino una volta c'era una fontana che mesceva oro e argento. E ora si è asciugata. Sì, glielo domanderò senz'altro. Riprese la via e divenne buio. C'era un convento e lui bussò. Vennero fuori i frati ad aprire e chiese asilo. Passi, passi. Si mise a raccontarla ai frati. E i frati? Ma le sa bene tutte le condizioni. Mi hanno detto che ci sono sette buche. In fondo a una buca c'è una porta, busso e c'è l'orco. Eh, garantuomo mio, disse il priore. Se non siete avvisato di tutte le condizioni, ci rimettete la pelle. Credete che sia una bestia da nulla, l'orco? Ora vi dico. Vuol dire che noi facciamo un piacere a voi e voi ce lo fate a noi. D'accordo. Sentite. Quando siete in cima alla montagna, contate sette buche. La settima è quella dell'orco. E voi scendete in quella. In fondo a queste buche c'è un buio che non si vede di qua a là. Noi vi daremo una candela e dei fiammiferi e così ci vedrete. Ma bisogna che andiate là a mezzogiorno in punto, perché a quell'ora l'orco non c'è. Ci sarà la sua sposa, invece. È una brava ragazza. E vi avviserà di tutto. Perché, se vi imbattete subito nell'orco, vi mangia in un boccone. Avete fatto bene a dirmelo. Tutte cose che non sapevo. Adesso vi dico una cosa che dovrete domandargli per conto nostro. Siamo stati qui non so quanti anni in pace. Ma da dieci anni non facciamo altro che litigare. Chi vuol questo? Chi vuol quello? Si grida! Si è sempre sotto sopra! Cosa vorrà dire? L'uomo l'indomani mattina salì sulla montagna. Alle undici era in cima. Si sedette a riposare. Quando suonò a mezzogiorno, si infilò nella settima buca. Era buio fitto. Ma lui accese la candela e vide una porta. Appena bussò gli ha perso una bella ragazza. Chi siete? Chi vi ha portato fin qui? Voi non sapete chi è mio marito. Tutti i cristiani che vede. Se li mangia. Io sono venuto per prendergli delle penne. Visto che ci sono, tento. Se poi mi mangia. Amen. Senti, io sto qui da tanti anni e non ne posso proprio più. Se tu sai fare bene, scappiamo tutti e due. Non ti deve vedere, se no ti mangia. Ma io ti metterò sotto il letto. Quando lui verrà a letto, io gli strapperò le penne. Quante? Quattro penne. E le raccontò tutto. Del re, dell'ocandiere, del barcaiuolo, dei due signori, dei frati e delle loro domande. Così parlando, pranzarono. Intanto sarà fatta un'ora tarda. La giovane si mise a far da mangiare per l'orco. Quando ha fame, sente subito il puzzo di cristiano. Quando ha mangiato, non lo sente più. Se no, povero te. Alle sei, si sentì un gran rumore alla porta. E l'uomo svelto si cacciò sotto il letto. Entrò l'orco e cominciò a dire «Mucci, mucci, qui c'è puzza di cristianucci, o ce n'è, o ce n'è stati, o ce n'è di rimpiattati». L'orco si mise a mangiare. «Ma che?» disse la moglie. «Non capite più niente dalla fame. Vettetevi a mangiare!» L'orco si mise a mangiare, ma l'odore di cristiano continuava a sentirlo. Tant'è vero che dopo mangiato continuava a girare per la casa. Finalmente venne l'ora di andare a letto. Si spogliarono, si misero sotto le coperte e l'orco si addormentò. L'uomo sotto il letto stava tutto a orecchi. «Sta attento!» gli disse la donna sottovoce. «Ora faccio finta di sognare e gli strappo una penna». Tiro via una penna e la passò a lui sotto il letto. «Ahi! Che fai? Mi spegni?» disse l'orco. «Oh, stavo sognando!» «Cosa sognavi?» «Sognavo quel convento laggiù. Da dieci anni i frati sono così cattivi che non riescono più a vivere assieme». «Non è mica un sogno! È la verità!» disse l'orco. «Quei frati sono così cattivi perché da dieci anni è entrato in convento il diavolo vestito da prete». «E cosa ci vorrebbe per farlo andare via?» «Bisognerebbe che i frati veri si mettessero a fare buone azioni. Allora si accorgerebbero di chi è il diavolo». E così dicendo l'orco si riaddormentò. E di lì a un quarto d'ora la moglie gli tirò via un'altra penna e la porse all'uomo sotto il letto. «Ahi! Che male mi hai fatto!» «Sognavo!» «Di nuovo? Cosa sognavi?» «La fontana laggiù nel giardino di quei signori che mesceva oro e argento. Sognavo che era secca. Chissà cosa vuol dire. Stanotte fai tutti i sogni veri. La fontana è turata e non può più buttare oro e argento. Bisognerebbe che scavassero su per il buco della fontana ma facendo adagio adagio troverebbero una palla e attorno a questa palla una biscia addormentata. Dovrebbero schiacciare la testa della biscia sotto la palla prima che la biscia se ne accorga e la fontana allora li butterebbe oro e argento. Dopo un quarto d'ora gli strappò ancora una penna. «Ahi!» «Stanotte hai deciso di spennarmi!» «Abbi pazienza!» «Sognavo!» «E che cosa ancora?» «Un barcai volo!» «Là sul fiume!» «Che da tanti anni non riesce a uscire dalla barca!» «Anche questo è vero!» «Ue non sa quello che dovrebbe fare!» «Il primo che entra nella barca dopo che ha pagato invece di far scendere quello scendere prima lui così ci rimarebbe quello e lui andrebbe via!» la moglie gli strappò la quarta penna. «Ma che fai accidenti!» «Perdonami!» «Continuo a sognare!» «Sognavo un locandiere che da tanti anni aspetta una figliuola che si è smarrita!» «Sognavi di tuo padre?» «Vuoi dire?» «Perché sei tu la figlia di quel locandiere!» Alla mattina alle sei l'orco si alzò salutò la moglie e andò via. Allora l'uomo uscì da sotto il letto con le quattro penne involte in un pacchetto prese sotto braccio la giovane e scapparono insieme. Passarono dal convento e spiegarono ai frati «Sentite! Mi ha detto l'orco che uno tra voi altri è il diavolo! Dovete mettervi a fare del gran bene!» «E lui scappa!» I frati si misero a fare buone azioni finché il diavolo scappò. I due passarono dal giardino diedero una penna ai due signori e spiegarono l'oro della biscia e la fontana si rimise a buttare oro e argento. Arrivarono dal barcaiuolo «Ecco la penna!» «Vi ringrazio!» «E di me cosa ha detto?» «Ora non glielo dico!» «Gli lo dirò quando sarò passato!» Una volta sbarcati gli spiegarono come doveva fare. Giunto alla locanda l'uomo gridò «Locandiere! Sono qui! Con penna e figlia!» Il locandiere voleva dargliela subito in sposa. «Aspetta che vado a portare la penna al re e gli chiedo licenza!» Portò la penna al re che guarì e gli diede una mancia. L'uomo disse «Ora, se vostra maestà permette, vado alle mie nozze!» Il re gli raddoppiò la mancia e lui andò. Arrivò alla locanda ma l'orco si era accorto della sparizione della giovane e correva per riprenderla e mangiare tutti in un boccone. Arrivò al fiume e saltò nella barca. «Paghi il traghetto» disse il barcaiuolo. L'orco pagò e non immaginando che il barcaiuolo sapesse il segreto non fece attenzione. Il barcaiuolo saltò arriva per primo e l'orco non poté più uscire dalla barca.